Sono 10 giga di dati, quelli pubblicati stamani, sul dark web dal gruppo Monti, che ha rivendicato l'attacco hacker alla ASL dell'Aquila del 3 maggio. A renderlo noto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, che già il 4 maggio denunciò la prima pubblicazione di un referto. Oggi, a distanza di sei giorni, dalla prima denuncia, che ha confermato l'esportazione dei dati, e dobbiamo sentire ancora il Presidente della Regione parlare di riservo. Caro Presidente, in calza fedele, se non se ne fosse accorto, l'attacco hacker non è in corso, ma è stato già fatto. I dati sono in mano a dei criminali, i servizi sono fermi, il personale è in ginocchio. Questo è un disastro riconosciuto da tutti. Nella Commissione Sanità abbiamo chiesto di inserire un ulteriore punto all'ordine del giorno per ascoltare sulla questione il Presidente Marsiglio, l'assessore alla salute Nicoletta Veri, il direttore della ASL, uno Ferdinando Romano e i responsabili della privacy. E proprio la ASL risponde con una nota. La direzione aziendale respinge con fermezza la divulgazione di notizie totalmente infondate. Si legge tanto più grave in quanto tendono a colpire la credibilità della ASL in un momento delicato in cui la stessa è parte lisa di un vile attacco criminale e la risposta dei vertici aziendali in ordine a quella che definiscono disinformazione di presunte carenze di antibiotici e di una operatività degli ospedali azzerata. Nonostante l'emergenza in corso, prosegue la nota, tutto il personale dell'azienda si sta prodigando per mitigare i disagi a pazienti e utenti permettendo l'esecuzione completa dell'attività chirurgica programmata e urgente. Ma come è potuto accadere un incidente del genere? Lo abbiamo chiesto a un esperto, il Digital Law Andrea Monti, docente della D'Annunzio Chieti Pescara. Nel caso specifico soltanto l'accertamento delle forze di polizia potrà dare una risposta. In linea generale questo tipo di attacchi dal punto di vista degli aggressori avvengono per esempio o inviando le classiche email che poi contengono dei codici informatici che concettualmente aprono delle porte per far entrare ulteriori virus che poi sono quelli che fanno il lavoro sporco, diciamo così, oppure vengono sfruttate delle vulnerabilità sia intrinseche ai vari software che sono sempre più complessi in infrastrutture di grande dimensione sia degli errori nella loro gestione. E mentre c'è il solito rimpallo di responsabilità della politica, rimetterci come sempre sono utenti e pazienti. Sembrava poter scattare anche un altro allarme del mancato pagamento degli operatori sanitari ma i sindacati rassicurano. È possibile a questo punto riparare il danno? Ci sono stati registrati dei casi nei quali dei virus scritti, dei malware scritti in modo non tecnicamente perfetto sono stati diciamo sconfitti da alcuni esperti però in linea di massima è abbastanza improbabile che i dati possano essere recuperati se non ci sono delle copie di riserva, i cosiddetti backup. La cosa, ripeto, parlo in termini assolutamente generali, la cosa che lascia abbastanza perplessi è che incidenti del genere che potrebbero essere evitati con un minimo di cura nella gestione complessiva dei sistemi e ovviamente non nella semplice tenuta in aggiornamento dei sistemi operativi, dicevo con del minimo di attenzione alla gestione della sicurezza questi incidenti potrebbero essere ampiamente prevenuti. Ma la vicenda andrà per le lunghe? Questo dipende da come è strutturata l'infrastruttura informatica della ASL